Assessore alla pubblica istruzione Maria Teresa Sorrentino, da qualche giorno è partito il nuovo anno scolastico, qual è stato il suo augurio e quello del sindaco agli studenti? Sì, quest'anno io e il sindaco abbiamo deciso di inviare una lettera a tutti gli studenti scolastici, come abbiamo fatto anche l'anno scorso, ma abbiamo scelto di partire dalle parole che caratterizzano un po' il lavoro sul patto educativo che stiamo facendo, che è per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio. Ci è piaciuto molto questo antico proverbio africano perché l'idea è proprio avere cura di questo villaggio, quindi gli auguri vanno ai dirigenti scolastici, al personale, ai docenti, a tutto il mondo della scuola, ai genitori con cui io condivido la bellezza di accompagnare ogni mattina i bambini a scuola e ai bambini, ai ragazzi, alle ragazze che sono veramente il cuore di tutto il nostro lavoro. Il mio augurio e l'augurio del sindaco è veramente che ciascuno possa sentire la scuola come il luogo dove essere i protagonisti, della propria unicità, delle proprie risorse, dove poter veramente fiorire e sbocciare. Quali sono le progettualità in cantiere da parte dell'amministrazione comunale che riguarderanno la platea scolastica? Partiremo con il trasporto scolastico tra fine settembre e massimo inizio ottobre. Sapete che quest'anno abbiamo avviato prima le iscrizioni e abbiamo digitalizzato le iscrizioni proprio per cercare di rendere il servizio quanto più fruibile possibile nei tempi più rapidi. La mensa partirà a metà ottobre, quest'anno abbiamo una bellissima novità, proprio ieri l'abbiamo approvata con una delibera di giunta, siamo riusciti a finanziare sei nuove classi di tempo pieno nelle primarie. Cedole, domani gli istituti potranno per le primarie ritirare le cedole, quindi saranno immediatamente disponibili, credo da lunedì al massimo martedì. E invece sapete che attualmente è aperto fino al 23 settembre l'avviso pubblico invece per le scuole secondarie di primo e di secondo grado. E anche quest'anno abbiamo, anche su questo servizio, abbiamo voluto anticipare i tempi, per cui la cedola poi sarà già spendibile a partire dall'11 ottobre. Ricordo che le famiglie non devono anticipare i soldi, su questo tema ci tengo molto, perché la cedola è una sorta di cassaforte virtuale, per cui andate lì con i vostri dati e potete spendere. Non dovete anticipare assolutamente nulla, è fatto apposta proprio per non gravare economicamente sulle famiglie. Ha avuto già modo di incontrare i dirigenti scolastici, ci sono criticità e problematiche da affrontare nei singoli istituti? Li abbiamo incontrati il 3 settembre, se non ricordo male, insomma i primi giorni di settembre, perché abbiamo fatto una conferenza proprio sul tema del trasporto scolastico, perché l'obiettivo è quello di rendere il servizio sempre più efficace ed efficiente e quindi quest'anno ci è sembrato giusto partire accordandoci, quindi provando a definire una linea comune. Certamente ci sono delle criticità sui singoli istituti scolastici, ma siamo al lavoro per provare a risolverli e io sono in un contatto diretto con i dirigenti scolastici, perché l'obiettivo è offrire un servizio che sia sempre più a misura di bambino. A che punto siamo per il play source? Allora i lavori proseguono, siamo fiduciosi che l'anno prossimo i ragazzi potranno ritornare e quindi sicuramente nei prossimi mesi ci saranno delle novità importanti rispetto a questo. Anche quest'anno abbiamo rifinanziato la navetta gratuita, proprio perché il plesso non era ancora pronto, ma io spero fiduciosa che questa sia l'ultimo anno per questa navetta dedicata, ma perché significa che abbiamo riabilitato il plesso, che per la platea è veramente importante. Anche quest'anno